Certo, conosco la famiglia. E abita qua? Sì, 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 abito qua, vicino, sono miei vicini di casa. Una donna bravissima, anche il marito molto bravo, tutti i figli sono bravi. Purtroppo qualche anno fa un figlio si è buttato dalla finestra, voi sapete anche. E da lì poi... Una cosa tragica veramente. Da lì poi insomma non si sono più ripresi la morte del figlio. Non è... certo, la donna boverina non si è ripresa perché certo una mamma che ha perso un figlio è una cosa molto tragica. Ma il figlio quello lì era malato, malato, aveva dei disturbi. A me mi dispiace, era un bravo ragazzo anche lui, molto, ma molto bravo. Da qualche anno, non lo so se è successo a lui. Non so, è diventato, non so, non troppo sano di mente. Grazie. 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 Grazie.